Mi hanno commissionato le tavole interattive sulle operazioni suddivise per livello di difficoltà. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, livello 1. All'interno troviamo la tavola dell'addizione e sottrazione in riga. Le tavole delle addizioni in colonna senza cambio, unità decine, unità decine e centinaia. Le tavole delle sottrazioni in colonna senza prestito, unità decine, unità decine e centinaia. Le tavole delle moltiplicazioni in colonna senza cambio, unità decine, unità decine e centinaia. In ogni scheda è presente la linea del 20 e la tavola pitagorica. Addizione, sottrazione e moltiplicazione, livello 2. Il fascicolo contiene la tavola dell'addizione in colonna con un cambio, la tavola della sottrazione in colonna con un prestito, la tavola della moltiplicazione in colonna con un cambio. Addizione, sottrazione e moltiplicazione, livello 3. Il fascicolo contiene la tavola dell'addizione in colonna con il doppio cambio, la tavola della sottrazione in colonna con il doppio prestito, e infine la tavola della moltiplicazione in colonna con il doppio cambio. Ecco i tre fascicoli. Devo dire che sono molto soddisfatta.